I sottotitoli garantiscono un livello di attenzione più alto nella visione di un video. Se desideri che il tuo pubblico o i tuoi clienti abbiano un livello di attenzione più alto anche del 20-30% e che ricordino maggiori informazioni dai tuoi video, allora ti spiegherò a breve come una piccola aggiunta ai tuoi video può rappresentare una grande differenza. Mi presento, sono Antonino, sono un traduttore e aiuto le aziende a raggiungere i loro clienti italofoni con la traduzione di video in inglese. Ma ritornando a noi, come ti dicevo prima, la soglia dell'attenzione aumenta del 20-30% anche solo aggiungendo dei sottotitoli nella stessa lingua del parlato del video, o captions in inglese. I sottotitoli infatti sono di grande utilità per seguire i video, in quanto migliorano il livello di attenzione, migliorano la memorizzazione dei contenuti stessi del video. Questo avviene per due principali motivi. Uno è che semplicemente avendo dei sottotitoli si ha un testo a disposizione da poter seguire durante la visione, quindi automaticamente il livello di attenzione aumenta. Il secondo motivo è che chi vide il video è automaticamente più coinvolto nella fruizione del video stesso. Ma ci sono degli studi che provano tutto ciò? Sbagliarò sicuramente il nome, ma la professoressa Morton Anne Gernsbacher dell'Università del Wisconsin-Madison raccoglie più di 100 studi impidici in un suo libro, ovvero The Sage Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders, che è un'enciclopedia che tratta appunto di problemi e disturbi di comunicazione in cui sono documentati degli studi che provano che la presenza di sottotitoli aumenta il livello di attenzione da parte del pubblico. Gli studi contenuti all'interno infatti documentano il fatto che le captions, ovvero i sottotitoli nella stessa lingua del video, migliorano non solo il livello di attenzione, ma anche la comprensione dei contenuti del video e la memorizzazione degli stessi. Quindi anche solo l'aggiunta dei sottotitoli nella stessa lingua del video senza bisogno della traduzione, ecco, producono un effetto positivo ai video stessi. Se sei un imprenditore, un addetto alla comunicazione, un manager o un filmmaker e hai dei video in inglese che desideresti far tradurre in italiano da un traduttore specializzato nei video e in particolare nei video aziendali, nel video di vendita e di marketing, allora clicca nel link in descrizione per scoprire i miei servizi e contattarmi. Ciao e a presto!